E ogni mommino qua c'è la sua cattedda e devo dire che facendo disperazione abbiamo trovato chiacchetti e chiacciano io consiglio anche di trovare tutte queste bambine, è chiave Aghium zinni la testa ogni anno usacce il nostro portatore e tutti i miei sinu vada ta 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 Ogni volta che si patti gli andando nel santo e poi fanno con iion dei humors stavende ta 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 E ruolo il casale e il bambino Luca trento se conosci per l'accendio ta 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 Il nome la tia è pericoloso, e ciò che si mangia, ricetelo qualcosa, non so se mi ammazzo, o alasso un pevere si può e fasca il mazzo, un ufficio avendo levo tutti i canne, perché stai morendo, mi metto sotto il zucco, a cucciature e carricare, andiamo a pindiñare, sogno solo con pane, andiamo a pindiñare, arraccina si potare, andiamo a pindiñare, a gandina ma pagare, andiamo a pindiñare. Un po' bene che ci dirлуч'o ando al muscolotto nostro, ma come si fa, si fa, si fa, E la testa mi dice, vatti in merca, vengo tutto così piccardo. Gustafà, ma che cazzo stai facendo? Non si può sapere. Uno non va bene, non è roba a combattere, non è roba a combattere. Poi si innesce un pazzo, ora sono così bene un congiolo. Mi fanno un mazzo agli un figlio uvile, con fama niente ero immico, come un boicco. Questa pioggia che va a fare, un cambio va a pezzare, un'attura a riparare. E finire e vignignare, un meccanico a pagare, i soldi c'è a chiatare, ma io chiudo ne pigliare. Ma tocca a domanare. Ma tocca a domanare. homme, il decentere, il decentere Shal Bast pam accorre. Bubutta be' la Christina cosa che cazzo stai ha un understandsare ma io non ho golpea a hobotits quando vengono al ristorante. Mi gefci un pagano, mi fai forte e vedi una dollarata, poi mi fai tranquillandci pure la fhesa. Ano, bu, anna, c'è vero, dat, 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 este, este, este.